Durante l'infanzia e l'adolescenza la pratica dell'educazione fisica a scuola può offrire un'eccellente opportunità di apprendere ed esercitare abilità che possono migliorare la forma fisica e la salute nel corso dell'intera vita. Il tempo dedicato allo sport nelle scuole si limita però a sole due ore settimanali e bisogna ammetterlo tutti o quasi a scuola hanno accolto le due ore di educazione fisica come fossero una specie di ricreazione e invece le ore dedicate alla cosiddetta ginnastica, stando agli esperti, sono molto importanti. Noi siamo stati all'istituto comprensivo di Prato all'Isarco dove stanno seguendo uno speciale percorso che punta proprio a promuovere l'attività fisica e il movimento in classe. Ormai tante scuole dell'Alto Adige hanno fatto questo corso, tuttora stanno facendo uno e la salute in scuole vuol dire praticamente un'evoluzione della scuola vista in generale. Non solo esercizi fisici, la gente si sente a suo agio nella scuola, sia gli allunni che gli insegnanti. Allo stato attuale sono solamente due le ore settimanali di attività fisica previste a scuola, poche per molti addetti ai lavori. Tendiamo almeno a togliere le ore dalle classi prime, seconde e terze elementari per aggiungerle alla quarta e quinta e lì è molto importante nella scuola elementare che fanno questi esercizi, imparano praticamente certi movimenti che prima non sanno imparare. L'attività fisica a scuola va assolutamente incentivata, questo dicono gli esperti. In questi anni lo sviluppo della motricità è molto importante e sono gli anni dove si impara di più dal punto di vista coordinativo, motorio. Ma gli alunni e gli studenti di oggi sono più o meno sportivi di un tempo? Diciamo che una volta erano tutti di un certo livello medio, ora si notano molte diversità, ci sono quelli super preparati che magari fanno uno sport già da piccoli e altri che non fanno più niente o solamente computer.